La balla per Nurchi, che legge le saltacca! Lufina! Nurchi, a gol! Massimo! Nurchi, il capitano! Capitano! Grande! E l'elastia ancora a subire un gol nelle prime fasi di gioco! In terra, però l'arbitro non ravele nessunissimo fallo, si riparte, roccia, destro di roccia! Che si ora il palo alla sinistra del portiere Davide Putano! Errore di Rufina! Scambiano Romano, palla sul secondo palo! E Beto Poole a mettere la palla in calcio d'angolo! Jonas per Torras, che prova la conclusione! Trovando il palo alla destra di Zanatta, che porta alla formazione di Asti sull'1-1! Zanatta! E Sergio Roccia, di testa, a insaccare! Prima il brasiliano che vola alto in cielo e mette la palla alle spalle di Rufina! Proccia! Prova a puntare Romano, se lo stupra! Tocca la palla, passa! A pochi passi dalla linea di porta, non riesce a trovare la conclusione vincente! Cortino, Romano, Cortino! Conclusione di Cortina, rete del numero 11! Roccia, Rufina, Massa, Roccia! Prova con una fita supera, ma la trova il gol! Grande Sergio Roccia! Che di destro, trova l'angolino alla sinistra di Putano! Grande trascinatore, il numero 9 di Sestu! Con la torra, Torras, conclusione! E Zanatta! Conclusione di sinistra di Fortino, che trova la deviazione! Palla per Fortino, solo di fronte a Zanatta! Maciado, prova la conclusione! Che passa in mezzo all'uomine di Sestu! E Zanatta non riesce a intervenire! Conclusione, parole numero 5! Ciao! Grazie!